Capire come non ci si ferma, come si assume quella che Pannella chiamava la pertinacia, la tenacia nella pertinenza e la pertinenza nella tenacia, o anche la resilienza con il termine che oggi insegnano nelle università. Qui secondo me è andata in onda la resilienza pertinacia. Così Luciano D'Alfonso, presidente della Commissione Finanze e Tesori del Senato, a capo di una delegazione di autorità intellettuali abruzzesi in visita a Matera. Il gruppo è stato accolto dai rappresentanti istituzionali della cultura e della fondazione Matera Basilicata 2019. Qui secondo me si reimpara anche il bello, che non è l'uguaglianza alla perfezione, ma il bello è, come dicono i teologi, anche la sintesi del tutto in un frammento. In un pezzo di questa bellissima realtà vissuta si racconta grande parte del mezzogiorno, si racconta per esempio quello che il nostro artista bravissimo Teofilo Patini raccontava come la sofferenza delle famiglie dei pastori, delle famiglie di coloro i quali traevano il sostentamento del vivere anche dalla durezza della terra. Qui siete riusciti, con un'idea, a fare in modo che accadesse una grande trasformazione, una grande collocazione, una grande risposta di significato. A introdurre l'incontro l'onorevole Vincenzo Viti, tra i firmatari della legge 771 per il recupero dei sassi. Questa è la legge che ho firmato io, che ha firmato prima di me Emilio Colombo, che ha avuto anche la firma di altri esponenti del mondo politico, Lucano e non. Ma è una legge che ha cambiato la storia della città, ha rimesso i sassi in le mani dell'autonomia comunale, ha inaugurato il riconoscimento UNESCO e ha portato al successo di Matera 2019. Si tratta di spiegare che questo modello è ancora in vita, che la fondazione ha concluso il suo compito, ma va rifondata, ricostruita e immessa in un nuovo ciclo ricostruttivo della vita della città e in un nuovo progetto che riguarda in materia futura, perché manca in questo momento una versione autentica sulla materia del futuro. Ed è questa la sfida alla quale siamo impegnati.